Tutto torna alla normalità, scoperta la fonte di inquinamento idrico in piazza 21 aprile. Si trattava di un tubo allacciato alla condotta comunale. Droga, arrestato un 23enne, fermato ad un posto di blocco dei carabinieri, è stato trovato in possesso di Ascish. La banalità del male, celebrata questa mattina nei locali dell'Istituto Pagoto, la giornata della memoria dell'Ascio A. Ben ritrovati con l'edizione serale del nostro TG Sud. È stata scoperta la fonte di inquinamento in piazza 21 aprile. Si trattava di un allaccio alla condotta comunale. Tutti particolari nel nostro servizio. In piazza 21 aprile, dove da settimane si fanno i conti con l'acqua inquinata, sta per tornare tutto alla normalità. I lavori, che sono iniziati a dicembre, sarebbero infatti a buon punto e tutto dovrebbe risolversi nel giro di poco tempo. La fonte di inquinamento è stata trovata, ha spiegato il dirigente del comune di Trapani, Orazio Amenta. Alla fine era costituita da un vecchio tubo in ferro, ormai arrugginito. Si tratta di un tubo che era stato posizionato o durante la costruzione delle case popolari o durante la costruzione della caserma dei vigili del fuoco. L'inquinamento dunque non è stato causato da una condotta comunale, ma da un allaccio a questa, realizzato da chi aveva costruito le case e la caserma. Questo tubo, ha detto continuando Amenta, era allacciato alla condotta principale, era crepato e attraversava una fognatura, da cui provenivano dei reflui che poi si innescavano nella nostra condotta. Ieri mattina, intanto, sono state effettuate le prime analisi dopo aver trovato la fonte di inquinamento. I risultati sarebbero buoni e l'amministrazione sta completando il lavaggio della condotta. Il problema sarebbe dunque risolto, ma per l'ufficialità bisogna aspettare ancora qualche giorno. Le segnalazioni dell'inquinamento erano arrivate dagli abitanti di Via Nausica, Via Nicolo Fabrizi, Via 20 Settembre e Piazza 21 Aprile, che avevano riscontrato cattivi odori e torbidità nell'acqua distribuita attraverso la rete idrica comunale. L'amministrazione, così, aveva predisposto un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile. Tra dicembre e gennaio, invece, erano stati avviati i lavori di scavi, così da capire quale fosse l'origine dell'inquinamento che adesso è stata trovata. Andiamo avanti con la cronaca. Un trapanese di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A tradirlo è stato il suo atteggiamento. Fermato a un posto di blocco, infatti, l'automobilista mostrava segni di nervosismo che hanno insospettito i carabinieri. E così un trapanese di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In macchina, infatti, aveva Ashish. L'indagato ha avuto la sfortuna di imbattersi in una pattuglia dei carabinieri impegnati nei controlli della circolazione stradale. I militari dell'arma lo hanno fermato chiedendogli di esibire i documenti. Quello che doveva essere un normale controllo, però, è culminato in arresto. Il 23enne, infatti, ha evidenziato un nervosismo che non è passato inosservato agli uomini in divisa. Insospettiti, pertanto, hanno deciso di procedere. A una perquisizione personale veicolare nell'abitacolo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 8 grammi di Ashish pronti per essere immessi in commercio. Nonché un bilancino di precisione, altri 80 grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati poi rinvenuti nell'abitazione del giovane che dopo l'arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte alla settimana. E cambiamo completamente argomento. Il mondo del digitale per viverlo in sicurezza è il tema del convegno realizzato da Compartigianato che si è svolto questa mattina alla Camera di Commercio. Ascoltiamo. L'intelligenza artigiana, conoscere il mondo digitale per viverlo in sicurezza. È stato questo il tema dell'evento promosso da Compartigianato Imprese Trapani che ha avuto come obiettivo quello di accompagnare le aziende nel mondo digitale fornendo loro gli strumenti e le conoscenze necessarie. Al convegno erano presenti imprese, liberi professionisti, studi e ordini professionali. Compartigianato comunque è presente, è stato sempre molto vicino alle aziende del proprio territorio ma anche a livello regionale e nazionale. Quindi è un indirizzo che ha voluto fortemente, è un motto soprattutto nel 2024 per tutelare le aziende agli attacchi hacker presso i loro social, server, siti web e quant'altro. Abbiamo voluto fortemente questo evento perché abbiamo visto le difficoltà che avevano gli artigiani, i professionisti nel rapportarsi nel mondo del web, dei cyberattacchi, della protezione informatica. Noi abbiamo voluto fortemente proteggere i nostri artigiani perché soprattutto, anche una cosa che ci interessa particolarmente, perché chiaramente ci possono essere oltre gli agri ma gli eventi atmosferici, cioè un alluvione, un salto a un pc, dobbiamo cercare di non fermare le attività in maniera prolungata e dare l'immediatezza del servizio. Cioè perché oggi non è più importante che mi manca un oggetto ma è importante che il mio pc funzioni, che il mio telefono funzioni perché tutto gira tramite questo. La banalità del male è il tema dell'iniziativa che si è svolta questa mattina nei locali dell'Istituto Pagoto in occasione della giornata della memoria della Shoah. Celebrata oggi la giornata della memoria della Shoah con 240 studenti degli istituti Florio, Esciascia e Bufalino, l'iniziativa, promossa da Luditrapani di concerto con Lampi e il patrocino del comune di Erice, si è svolta nei locali della scuola Pagoto. Il tema dell'iniziativa è stato quello della banalità del male, dalla nota teoria della filosofa Anna Arendt, formulata in seguito al processo ad Eichmann. Un tema monografico affrontato nel corso del progetto Treno della Memoria che anche quest'anno condurrà un gruppo di studenti in un viaggio nel cuore delle ferite del Novecento europeo fino ad Auschwitz. Un progetto che, sottolinea la Presidente dell'Uditrapani Valentina Colli, anno dopo anno ci dà una spinta propulsiva a continuare sulla strada della cittadinanza attiva perché per poter costruire ed esercitare la libertà e la democrazia abbiamo bisogno di memoria. Per scegliere di essere sempre uomini e donne di pace. Adesso ci spostiamo a Pantelleria dove nella sala consigliare si è parlato di progetti PNRR per la sanità e decreto ministeriale. Sono oltre 40 i milioni di euro di fondi PNRR e PNC messi a disposizione dell'Asp di Trapani per portare a termine progetti di edilizia sanitaria. Fra questi la costruzione di una casa di comunità Spock a Pantelleria. Si è parlato di questo nell'incontro pubblico che si è tenuto nella sala consigliare dell'isola. Un incontro molto importante in cui sono stati chiariti alcuni punti che coinvolgono il futuro della sanità locale. Relatore il dottore Luca Fazio, direttore sanitario del distretto di Pantelleria, introdotto da Massimo Boni, assessore alla sanità. Ampio spazio è stato dedicato a chiarire contenuti del decreto ministeriale numero 77 che si prefigge di alleggerire la pressione dei pronto soccorsi dirottando parte dei pazienti, quelli in codice bianco e verde, verso la medicina territoriale che sarà migliorata e rinforzata proprio attraverso la casa di comunità. Lì i cittadini potranno accedere per bisogni di assistenza sanitaria primaria e preventiva. Nella casa di comunità Spock opererà una equip di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e molti altri specialisti. Ma la vera novità è che in questa struttura, che verrà realizzata in una vecchia ala dell'ospedale Nagar, opererà una nuova figura, che è quella dell'infermiere domiciliare, un professionista che si occuperà esclusivamente di andare a casa di quei pazienti cronici per i quali non è necessario ricovero. In questo nuovo ambito sanitario sarà inoltre potenziata la telemedicina. Torniamo a Trapani, nella riserva delle saline di Trapani e Paceco, dove oggi è partito il censimento della vifauna, promosso dal WWF, ente gestore dell'area protetta. C'era per noi Mario Torrente. Il censimento punta ad avere un quadro completo della vifauna presente nella riserva delle saline, contando gli esemplari che affollano vasche e canali. Il censimento che viene fatto su tutte le zone umide durante il periodo invernale è un appuntamento che coinvolge sia il personale, le persone che lavorano lì sui luoghi, ma coinvolge anche tutti coloro che sono appassionati di avifauna e che fanno questo durante il loro tempo libero. Questo censimento che si svolge a gennaio ci dà il quadro esatto di quello che c'è a livello sia di specie, ma anche a livello numerico. Noi ricordiamo che all'interno della riserva la vifauna cambia continuamente. Dallo svernamento poi passiamo all'arrivo dei nidificanti in primavera, assieme invece alla migrazione. Durante il periodo estivo avremo varie specie che si riproducono all'interno della riserva per poi assistere a fine estate al ritorno dai vari siti di nidificazione del Mediterraneo in questo viaggio che gli uccelli compiono verso l'Africa. Ovviamente facciamo il conto con le condizioni meteo, però oggi sicuramente la giornata con questa luce ci accompagnerà nell'identificare soprattutto quelle specie che sono difficili da riconoscere. I limicoli, in prima battuta, sono quelli che ci impegnano maggiormente perché ovviamente essendo molto simili ci vogliono degli occhi attenti e soprattutto l'attrezzatura per poter poi distinguere le differenze. E durante i censimenti fatti annualmente è emerso un costante aumento degli esempi a ripresenti a conferma dell'importante lavoro di tutela svolto dall'ente gestore della riserva delle saline. Ogni anno l'occasione del censimento è per noi la raccolta del frutto del nostro lavoro di tutela, un lavoro di tutela che sul territorio si svolge da 30 anni. Ogni anno attraverso il censimento abbiamo avuto modo di constatare qual è la situazione della presenza dell'avifauna all'interno della riserva. Consideriamo che le saline di Trapani, Paceco e Misiliscemi rappresentano un pezzo di territorio residuale, cioè un'aria umida, tra le ultime rimaste in Sicilia. Un luogo importantissimo per la migrazione degli uccelli acquatici che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Ecco perché è importante tutelare, tutelare al meglio questo territorio, perché ha una valenza non solo locale ma internazionale, tanto da essere anche un'aria umida Ramsar. Oggi per poter tutelare al meglio e per avere anche un raggiungimento di altri obiettivi rispetto a quelli che si sono già raggiunti, serve fare delle scelte su questo territorio, armonizzare tutto ciò che c'è attorno alla riserva che ha degli effetti all'interno del sito protetto. Questa era la nostra ultima notizia, la linea adesso passa allo sport. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento.